Per quel che riguarda i miei compagni, li ho conosciuti oggi, ho già avuto modo di vedere che sono oltre che dei veterani, le persone già abituate al campionato italiano, sembrano tutti dei buoni compagni e potremmo trovarci bene. Io sto entrando in forma, per quel che riguarda la città ho avuto modo di farmi già una mia idea, ho fatto qualche passeggiata, sicuramente è piccola ma mi trovo bene, è diversa dalle città a cui ero abituato, però questo non significa che sia qualcosa di meno. Il campionato invece che cosa si aspetta? Onestamente conosco molto poco del campionato italiano per non averci mai giocato, però abbiamo la fortuna di avere dei giocatori che lo conosco molto bene, io dal canto mio, essendo uno degli ultimi arrivati, non potrò fare altro che seguire loro e sono sicuro che saranno un buon esempio.